musica 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 capitao su queste scale c'era twitch un blitz un blitz c'è blit dietro sta blitz è la eh chi è rimasto blitz mister guardati in basso a destra uno è stato a toro meccanico anzi nella stanzina adesso maverick sta lì con lui è morto maverick blitz sta in questa stanzina è quello forte aspettatelo è un treno non può farneva è stato ancora il blitz eh ma non avrà molta vita secondo me grazie ho vissuto l'eco proprio preciso la mira prima che le piglio e le piglia avrete 10 di vita è blitz cioè se vi mettete a due angoli diversi devi dare le spalle a uno dei due l'oro lì c'è qualcosa che esplode mio l'oro vai via l'oro vai via l'oro vai via che quello te guantappa come nulla onda il tuo era buono lì deve scavalcare arriva da lol si eccolo onda che ti entra in prefire ti fa headshot non è che ci mette molto entra va fa il giro fa il giro a porticine tornati bello bello comunque ci ha provato a far gli headshot a onda eh guardate la killcam guarda come ci ha provato gli è passato a un millimetro dalla testa ti è passato il colpo onda ammira sto qua ammira overpower push che questo non gliene frega un cazzo di te con questo caso è stato decisamente utile molto e chiaro mamma mia che 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 cancro fortissimo comunque i primi due sono i più forti infatti il blitz cioè francesco avanza e slim sleaky lo copre lo copre qui c'è chi era quello la di prima eh slim sleaky eh slim sleaky bello regà io stavo parlando mutato ma che bravo io stavo dicendo tipo no no raggiungete il giro di più rischio e difendetelo mii ragazzi sono cattivi cazzo sono cattivi un botto sono cattivi e chiaramente c'ho paura eh pure io perchè non li riesco neanche a vedere ma ammazzano prima ha fatto un buco il virus si il drone è attivo doc è cattato siamo sicuri tanto non si vabbè è doc quindi sicura vabbè non si è scaduto su sta finestra c'è un capcan eh c'è pulse c4 ok non so se era di Muzio o di Pulse venditi in bagno venditi in bagno nuovo caricatore pulse dietro la e qua top e banditi in bagno eh pulse ci sta vedendo col visore Kevin che ha vinto come un atto è entrato su nuovo il blitz eh volevo raggiungerlo il blitz però non lo so aspetta non lo so stai sbagliando spaccato Muzio bravo non lo conosco stavate è ancora in bagno venditi ragà ricarico l'arma dietro Nonno mi sei fatto uno spavento Una che spacca qua Faccio io Dai vado io Cosa? No quell'altro da dentro No rega l'ho smirato Madonna io ho fatto la sagoma Madonna di dio come giocano questi Stai in un'implice allucinante Con che velocità fanno ste robe sti qua rega Guarda questo qua Manco a mira No vabbè raga ma No 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 C'ha avuto il tempo di fare tutto questo cos'è? Qua abbiamo due diamanti Carriati da tre o non classificati O molto bassi di grado Ma che so No diamanti no Affidati un platino 1 sicuro Platino 1 sicuro Eh platino 1 si Ma pure platino 2 Gli altri saranno tipo platino 3 oro 1 Da come gioca il dock Secondo me quello è un bel platino 1 Di quelli forti proprio Pure io una volta ero così Però Una volta Che per portarsi al grado alto Deve per avere un po' di stanza Sì PMS1 è scarsissimo L'ho distrutto Nonostante lui mi ha sentito molto prima L'ho distrutto È più scarso sicuro Vabbè ma quegli altri tre sono scattuti Meglio perchè io ho fatto la pagina Perchè il posto mi rambotto Perchè il posto mi rambotto Perchè il posto mi rambotto Ma che vuoi Ma io ho visto un topo col tuo No ci c'avevi un drone sotto le gambe Cazzina scondeva E tu l'hai visto Ma è un po' di trisi Dunque io Non c'è niente da ridere Ma non so dove nascondermi E poi stavo andrebbe giocato col bandit Ne effetti sì Serviva bandit qua Cosa? Cosa è questa radio che suona Ricarico copritemi Devo mettere più fai io Non lo metto più Il problema è da dove te l'ho Non lo so Non lo so E la madonna Morto blitz Vaffanculo Bello Capo quanti serve vita? Serve vita? No 97 C'è finca C'è finca Avanti lì C'è pochissimo vita Onda fermo C'ho io un buon head glitch Fermo Onda Non c'è però Ricarico C4 in posizione Si dronano Sono lì Onda Sascha qua eh Qualcuno con le granate Finca potrebbe avere le granate C'è in realtà Ma co Stavo io fra loro Ho l'arma di Buck Ah Buck È un 25 Anzi è 15 di vita Forse È proprio la prima tacchetta Che pagina Sono morto Granate No Ha 20 di vita Onda Ha 20 di vita Non lo so Ma raga dovete aiutare Onda Non lo dal Da quella finestra Se esce gli sparo Ok No Onda lì sta al mirando Eh ce l'ho uno dietro E di porco Sto chiuso un botto io Per chiudere Fuori dentro Fuori dentro Non più Ah ha preso il design No Oddio Ok 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 Ma pure a sinistra sta Lollo pure a sinistra sta Uno più gli dice che sta a sinistra Ah no te l'ho detto Eh non avevo capito Non è proprio a sinistra Nell'angolino avanti Ti metti nell'angolino C'è uno là In fondo Mi abbracca Bello I due forti son morti Restano 15 secondi Ora arriva dalla squadra Adesso gli incredibili Il tempo scade tra 10 secondi Stati mirando tutte le stesse forti Cambio Restano 15 secondi Bello Non liatemi tutto Raga quello mi ha preso alla spalla E mi ha ammazzato a me Raga Con l'arma di back Sto gioco proprio Fa schifo di hitbox Sto gioco di hitbox Fa proprio cagare Buone Non so Non so Non so Non so Prendere Qui ci sto pensando Dove possono andare questi Dormitorio Eh no Dormitorio si Hacker Confermo mozzi Mi sento All'arma ci mette 20 minuti Doc qua Regà Doc nel garage Sopra Ah Non c'è la finestra Fuck E' stato curata La camera C'è un belit Regà Guarda Guarda Ok Regà Dove Distraggo Distraggo Aprendo sotto Nemico localizzato Primo piano Nemici Primo piano Dai Monzi sotto Monzi sotto qua Eh D'ambiare l'angelo C'è Sarà messo Dentro l'obiettivo Eh Prefaira Questo Sì Vabbè Cocciuta Porco Innesco la storbette Al riparo Ok Ok Poi ce n'è stato un altro Qua sinistra No No Doc e Jäger In obiettivo Morti di sotto Regà Cavera qua Poi ce n'è Poi ce n'è Un giglioni Trex Ricarico Allora 30 secondi Raga 30 secondi Non so se ne vedete Non la testa Non so Rimangono 15 secondi Vaffanculo No niente Non so Possibile Ma quando l'ha colpito Ma io sto dentro Tanto non faccio un cazzo Eh va bene Oh prendo brizzo Prendo montagne Per essere sicuro Che cazzo piglio Blitz Ma da sicuro non c'è stato Però Mi stai tentando Raggiungete la posizione Guarda le va subito Guarda Mozi sta sotto Mortacci su Guarda che mi vuole fregare il drone Quanto è regà Io Qualsiasi cosa faccio Grazie Vede l'immerda Sto Tutta vita La mina è pronta C'è anche la mina di Ela Però non sono riuscita a levarla Sulla finestra Lontani dall'esplosione Mi mancava Era in garage Guarda oh Madonna regà Come stai negrice Questo Deve fa un ferimento Ma non stai a un ferimento Quello lì ho fatto 20 di danno Mo si è curato Il ban Bello Maggiamo Proviamo Ma cos'è sto gioco D'inverda Ha un altro Questo pa' di fuori Bello no no Intanto che c'è pure Ma pure quello dietro Ultimo uomo per la squadra alleata Ci posso credo Sto gioco C'è 4 No te l'ha piazzato L'hub E invece no Da là sotto Sì vabbè Vabbè Tu ti riesci a colpire Però tu no Non è tanti a 30 secondi Non gliela dai la kill Te ne freghi il cazzo Go Vado come un porco Mo te becchi quelli forti Eh quando li ammazza Questi due Alfa non gliela dai la kill Fatti a tenere il cazzo Non gliela dare la kill Perché non gliela dai Provo 15 secondi Eh Si entra Smolecolato Ragazzi Aspetta quello col pompo Ma cosa Tufi Col pompo a 20 km Ma cosa Ti becca Ti becca Guardalo Guarda come stavano 23 kill in 2 Raga Andate a giocare Con i veri diamanti I platini Vediamo quanti schiaffi Pigliate Dai Questi Ve lo dico io Sono 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 me Sono platino 2 Questi due E ci stanno E ci stanno No 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 Ma che c'è No E poi ci stanno Contra sarà Argento 1 E ora Esatto Esatto Argento 1 E gli altri Oro 4 Oro 4 Questi qua Saranno 1 Platino 2 1 Platino 1 Bassissimi Atti 3 Regale Bassissimi Sai cos'è rimangono solo sti due ogni volta Diciamo che è abbastanza scontata come cosa Eh 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 appunto Ma non fa quanto a me cazzo quelli sotto Dai Jambo Però tu non puoi fare il motetto Faccio cagare Ma che fai cagare che Che cosa cosa Non fai cagare scusami no Prima non facevo cagare Ancora 10 secondi Prima di avere già tutta Prezza che fai ma adesso C'è Porto un ramo i4 Perché vedi a barbara Ricaricare Fermo Fermo Puoi anche richiudere Sì è finca Vabbè davvero è finca Poi hanno anche una Feuds 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 Bellissimo Twitch ha messo la claymore qua sotto Vabbè Lion Non spottate Non spottate No no Voglio farvi capire dove aveva messo la claymore Niente io sono morto Sono morto Dio ciao Dove sei? Qua abili a Senza di giochi Sì ma non sono ancora morto però Sì ci sta Twitch è la Eh sì Mi è arrivato a me addosso col drone No no ci sta proprio il Twitch Drone di Twitch distrutto Porco Twitch E quei Slim Sleaky Tutta vita lì davanti Drono nemico in posizione per la stazione Avvio del timer Vitti Minchia Oh l'ho visto dopo Pfff Vedi te è frost Lollo ci vedi te il bagno Eh sì il bagno lo vedo io Twitch ha preso la trappola dietro nel bagno sulla porta Sì ma state guardando Eh la stessa Stessa porta Fatto la trappola di frost dietro è entrata in bagno Stanno per operare una Due dietro sono due dietro Twitch sta qua Sì 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 No Lollo Oddio Lollo Mamma mia Guarda che cazzo Sì Sì ma pure lui eh C'è La sfida della smirata questo Quello che c'entrava un colpo vinceva Sostanzialmente Zorra è fiero di te cazzo Zorra è fiero di te Chi ma qua regà mo in attacco E in attacco ci spaccano in tre Ragazzi È stato bello Tu sei la mia vita Tu sei la mia strada Ti tiro fuori il colpo di genio Gli levo tutte le trappole porco due Tanto non so chi prendere Ragazzi Ti vuole lui Er cazzone L'hai detto è giambo Salva clip video No lo salva clip video No giuro vado in chiesa Abra un colpo di genio Abra un colpo di genio A presto Abra un colpo di genio Abra un colpo di genio Abra un colpo di genio in verità si, ma c'hai dock appena... guarda un attimo, si è dritto davanti a te qua c'è un buco che unisce no 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 ma sto sotto! sempre sotto sta questa oh per dio nooo morto lesion e mia madre pure me la tirate scottivo che gioco di merda ha tutta la vita sono quelli più scazzi nooo un operatore alleato è rimasto rimangono 10 secondi c'hai un drone non ce l'ho 10 secondi hai visto? no sii uffa un culo strozzi di verda guittanella 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 no aspetta come si chiama raga quelli che sono lei scrivetegli un messaggio vi prego raga dovete fare visitare raga erano tutti diamanti erano tutti di